Ho visto i primi due minuti di Sanremo e sono inorridito. Non posso dire quello che penso del Presidente Mattarella se non mi arrestano. Siamo una democrazia, però se uno dice quello che pensa del Presidente gli arriva la Ticosca a casa. Quindi, fate popis. Però di Benigni posso dire cosa penso. Pessimo. Pessimo. Amadeus. Peggio da peggio. Poi ho saltato da filmato a filmato. Cioè filmato da cantante a cantante pochi secondi. Una merda costante. Possiamo dire che il livello di qualità di Sanremo è uniforme nei cantanti. Veramente uno schifo assoluto. Non ho visto tanto, se no ragazzi mi venivano a vomitare. Ragazzi non c'è bisogno di Zaneschi per boigottare Sanremo. Si boigotta da solo. Poi mandate la lettera. Il problema è quello. Questo Sanremo sarà... Ragazzi, ma perché non ci liberiamo di Sanremo? Perché non ci liberiamo? Non ha senso più. È il festival della merda italiana. Proprio sciacquiamo Sanremo. Proprio con la... C'era la catena? Ecco. Sciacquiamo Sanremo. Non se boigottiamo. Bisogna sciacquarlo. Deve morire di morte sua. Arrivederci.